Ammo! Buon pranzo! Già pronto eh! Prontissimo! Pronto sì! Per tutti quelli che pensavano che eravamo una formaggera, la formaggera ci sta! Cioè ma hanno sempre i kiddiri! Mamma mia! Quando comprate il formaggio, il parmigiano, 200-300 grammi, non dovete tenerlo nella busta e nel frigo perché non lo consumate in un giorno e poi fa tanfo. Allora lo mettete in un bel barattolo di vetro e lo mettete nel congelatore. Quando vi serve, col cucchiaio lo prendete, ecco perché io esco il barattolo. Ma la formaggera ci sta! La prossima volta ve ne faccio vedere un'altra e un'altra ancora, ne abbiamo ottenuta. Ammo! Io volevo i kiddiri e i suoi casi a vivere come i suigli. Comunque! Proprio vorrei andare a casa loro a vedere come sono questi che criticano. Pasticciati alla catenese. Pasticciati sono! Sì, ovvero con melenzane, uova sode, mozzarella e saltati in padella. Il formaggio della formaggera, oggi non prendo quello del frizz, allora questo poi io lo verso nel barattolo del frizz. Quindi la formaggera ci sta! L'ho assolto un'altra formaggera e poi un'altra ancora, ne ho tre, forse ti compro la quarta. Avanti! Perché io l'accoppio. Vabbè, voi rimanete a criticare, però chi critica gentilmente mi invidia a casa sua, voglio vedere a casa sua. Scetto! Buon pranzo! Buon pranzo! Scetto! Buon pranzo! Comunque ammo, stai pensando ancora ai quattro euro di stamattina della crescita? Sì, mangiamo dai! Buon pranzo!